Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui su Spazio Verticale, le migliori novità del mondo dell'arrampicata le potete trovare solamente qui, quindi iscrivetevi qui sotto al nostro canale per rimanere sintonizzati con tutto ciò che accade nel mondo dell'arrampicata in italiano come sentite sta arrivando la seconda ondata di caldo, quindi moltissima gente per combatterlo si recca in montagna volevo farvi vedere quindi il video di Francesco Morandi che va a fare blocchi in Valdaone che come ben sapete è un posto abbastanza fresco e andiamo quindi a vedere il video di Francesco impegnato in questa salita Allee, allee, allee Allee, allee, allee Allee, 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 all No come invece avete visto dal nostro account di instagram abbiamo postato delle foto in dolomiti perché negli scorsi giorni sono stato a scalare lì prima siamo stati nel gruppo del sasso lungo e poi sul piz chavazzes insieme a etienne bernard una guida del posto poi sono stato anche in tre cime per filmare una cosa che adesso rimane ancora segreta ma che presto vi svelerò avevo con me il drone abbiamo fatto lo spigolo di buona che sale in cima alla grande di la vareda una via storica che arriva fino al quarto o più vi lascio qui sotto la relazione che secondo me è più precisa perché poi nella parte alta si rischia di perderci dato che le difficoltà si abbattono abbiamo davanti questo mare di roccia quindi se volete dare un'occhiata a questa qui sotto in link secondo me la relazione è un po' più precisa e vi lascio adesso qualche immagine che ho girato con il drone un'occhiata è un'occhiata un'occhiata è un'occhiata un'occhiata è un'occhiata un'occhiata è un'occhiata il giorno è un'occhiata un'occhiata è un'occhiata Bene ragazzi, spero che questa puntata vi sia piaciuta, lasciate un commento qui sotto e seguite il nostro account Instagram di EpicTV Italia e noi ci vediamo martedì con un altro episodio di Spazio Verticale. Ciao a tutti ragazzi!